Il lotto numero 448, Fortunato de Pero, un disegno, una matita su carta del 1918, opera firmata in basso a destra, provenienza Rosetta de Pero, autentica di Rosetta de Pero su fotografia, la base d'asta è di 4.000 euro e 400 e 800 per me, siamo a 4.800 per la prima, 4.800 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Il lotto 449, Renato Guttuso, tecnica mista su cartoncino all'otto 449, autentica dell'artista su fotografia, la base d'asta è di 3.500, 3.850, 4.200, siamo a 4.200 per la prima, 4.200 per la 450, Joan Miró, del 1973, matita su carta, opera firmata e datata a retro, autentica su fotografia, rilasciata da Francesco Ferraras, direttore della Galleria Meg di Barcellona. è esposta alla Galleria Meg di Barcellona, 10 maggio 30 giugno 1978, è riprodotto sul catalogo, la base d'asta è di 8.000 euro, 8.500, siamo a 8.500 per la prima, 8.500 per la seconda, 8.500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Il lotto 451 di Caro Rama, del 1973, tecnica mista su carta, firmata e datata in basso al centro, la possiamo mettere in gara a 3.800 euro, 4.400, 4.400 e 600, 4.600 per la prima, 4.600 per la seconda, 1, 2 e 4.600, 1, 2, 3, su, mi fa vedere solo il numero 213. Il lotto numero 452, Lucio Fontana, nel 1946, china su carta, archivio Fontana, la base d'asta 2.500, 2.750, 2.750, 3.300, siamo a 3.300 per la prima, 3.300 per la seconda, 1, 2 e 3.300, 1, 2, 1, 2 e 3. Il lotto numero 453, Caro Rama, l'Atomica, 1969, opera firmata e datata in basso a destra, la base d'asta, signori, è di 5.000 euro che sono offerte, e 500, 6.000, siamo a 6.000 per la prima, e 500, siamo a 6.500 per la prima, siamo a 6.500 per la prima, 6.500 per la seconda, 7.000, 1, 2, 1, 2 e 3, su, 7.500, 7.500 per la prima, 7.500 per la seconda, 1, 2, 1, 2 e 3, su, 7.500. L'otto 454, Mirko Basaldella, 1960, Tempere Collas, 90 per 58, esposta alla Galattea, Galleria Gianferrari, il Fauno Galleria Gianferrari, il Fauno Galleria Gissi, un'opera importante di Mirko Basaldella, la base d'asta è di 1.200, 300, 400, 500 e 600, 1.700, siamo a 1.700, 1.800 a Johnny, per la prima, 1.900 per la prima, 1.900 per la seconda, 2.000, siamo a 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda e 2.000, io giudico, 2.000 per la prima, 2.000, 2.000, 2.100 per la prima, 2.100 per la seconda, 2.100 per la seconda, 1, 2, 1, 2 e 3, 2.100 Giovanni. Il lotto 455 non c'è, non è pervenuto, il lotto 456 Roberto Crippa, degli anni 60, sughero polimaterico 81 per 65, la base d'asta è di 4.500, 5.500 sono offerti, 5.500 per la prima, 5.000 e 2, 6.000, siamo 6.000 per la prima, 6.000 per la seconda e 500, siamo 6.500, per la prima, 6.500 per la seconda, 1, 2 e 6.500, 1, 2 e 3, su, 283, sì, 283, 283, 283, 283, 283, 283, 283, 5.500, 283, 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 28 prima, 6,5 per la seconda, 6,8 per la prima, 6,8 per la seconda, 1,2 e 7,7 per la prima, 7,8 per la seconda, 7,8 per la seconda, 7,8 per la seconda, 7,9 per la seconda, 1, 2, 3, 7.000.